Intro Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Cross Bayon Parkour La settimana scorsa ce l'avevamo lasciati che dovevamo entrare nel nether Il che di per sé è già una cosa abbastanza preoccupante per quanto vi riguarda Ma come mica l'ho messa le cuffie Allora entriamo nel nether e vediamo cosa cazzo ci aspetta Intanto prendiamo il checkpoint ed entriamo Ok eccoci qua Portal to Overworld Sì ok grazie al cazzo Fuck Cioè devo Non capisco devo rientrare nel nether Cioè devo rientrare qui praticamente sono due portali connessi Questa cosa non ha un senso Scusa un attimo E adesso dove devo andare E quindi dopo svariati tentativi Sono arrivato alla conclusione Che si era buggato il mondo Quindi ho dovuto praticamente Dogradare minecraft alla 1.7 Sono dovuto ritornare in questo punto Vedere se funzionavano i portali perché se non ho buggati E quindi eccoci qua Andiamo a settare il checkpoint E finalmente entriamo in questi fottuti portali E vediamo se funziona Perché fino a 5 minuti fa funzionava Adesso funziona Qua vedete mi ha teleportato in un mondo totalmente diverso Turn around Go up the stairs Ok andiamo avanti Ok lo spawn point Non si possa tenere nel nether Ah praticamente per ritornare qui Devo Cioè se muoio praticamente devo usare le coordinate Ma cosa che io ovviamente non farò E quindi per questa cosa Io andrò a mettere la creative Così se cado sotto Volo almeno non muoio Non devo scrivere ogni volta Slash tp merna Va bene Quindi entriamo in questo punto Continuo questa mappa Che vi sta piacendo E mi fa piacere E se vi piace Lasciate un mi piace Vi piace A me piace Va bene Parkour Star Vaffanculo Ok ce l'ho fatta Ok adesso non si cade Ah Che Glowstone viene già a Pitex Vola Vola No no Che cazzo Io sti cosi non li sopporto Sti paletti di merda Paletto di merda Ah Ah No Madonna mi ha fatto il bump Non ce la faccio What the fuck Oh Ah Ok 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 Che questo non dovrebbe essere particolarmente difficile Ok 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 Qui 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 Si Teleporter Si Checkpoint Sto cazzo Right all coordinates Down right now Ah Game mode 1 Ok Andiamo Andiamo Ah Ok devo fare Così Adesso dove cazzo devo andare This jump is possible Ah ok Allora praticamente ho capito E questo salto è impossibile Oh Ce l'ho fatta What the fuck Madonna Ok No no Un altro paletto in culo No vi prego Un altro paletto Trolled Che cazzo significa Che cazzo significa trolled Madonna ho preso il paletto Fiamme mi sta bruciando il culo Intanto non prendo fuoco con la creative Quindi sti cazzi No adesso questo è veramente impossibile Ragazzi no Questo è improbabile Come si fa a fare sto salto adesso Cioè guardate lì c'è la fine Ma fare questo salto è totalmente impossibile No Oh ce l'ho fatta Madonna jumpy tech Fai questo Si Si Questo No Cazzo No di nuovo il mouse ho tirato Madonna questo mouse è proprio Proprio violato analmente Cazzo Ok 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 Go through here Ok Si Si No ti prego No No perché questi salti così Ce l'ho fatta Ok Ah Madonna Cioè è assurdo Due Si Oh Teleporter Checkpoint Si sto cazzo Oh dai Almeno non c'è là Finché non c'è là A me piace la cosa Madonna come l'ho fatto Stucchiamo il paletto Vaffanculo Dai Questi parkour A me non hanno Questi serben Questi parkour Ok Landy Landy Minchia Landy si utilizzava in Ehm Significa land Tipo si Si utilizzava Sì 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 In GTA San Andreas Quando si facevano gli stanto Landy Quello Quelle Quel cazzo di cose Dentro al fottuto buco Ah Sì Dentro al fottuto Sì adesso ci sta sei anni a scendere Dai Ok portal to overworld E qui praticamente Io ero arrivato qui Cioè praticamente avevo schippato tutto Con il bug Avevo schippato tutta sta parte di Di nether Che non si doveva fare Ok Teleporter Ok adesso posso togliere anche La game mode Perché sono uscito dal nether Teleporter to end portal room Non ci credo mai Dov'andare nell'end crafting challenge Cazzo è la crafting challenge What the fuck Regole Usa gli oggetti nella cesta Per craftare una leva Piazza la leva Nella porta di ferro Per aprirla Ok Quindi abbiamo il crafting Dobbiamo fare lo sticchietto Se non sbaglio Poi fare così E così Ok ecco la leva E Attiviamola qui Eeeh Ok Discard Utility Here Buttiamo anche questi Qua dentro Cioè praticamente Mi sta facendo il test Di quanto cazzo sono nerd Va benissimo Checkpoint Quindi ragazzi Per questo video era tutto Continueremo nel prossimo episodio Questo è per se vi è piaciuto Invito a lasciare un bel like Bello grosso Di quello bello potente E ciao ciao